bella ragazzoni qui salvo sarebbe anica siamo qui dove andremo a fare nel quarto episodio la quinta missione ragazzi vediamo che la dice il bambino con una mano che ti rendi cura all'altra prendi prendi che i bambini non vogliono diritti a velena lì allora ci faremo uscire mamma mia signori viaggio breve ma intenso come dico sempre o no e mi porti per la missione non io mi sono io ho fatto un altro film nuovo siamo sempre qui possiamo dire no è un altro sul fuoco ciao a tutti buonasera 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 ah ecco il bambino per questo è un'altra domanda ma non fa ma cosa dobbiamo fare praticamente dobbiamo no mi dico regà guardate la pasta da dove la cantettina eh non sapere di qua lo messo già io eh no sono così qui la cantettina però sono 5 cantettina a prendere non andare a giocare le cantettine la cantettina trovata sei va Nick dove la zuffa ho trovato la cantettina eh all'inizio 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 no questa non è la chiesa eccola qui la cantettina no no dov'è l'hai presa sì però c'avevo il veleno male che c'avevo il titolo bravo schiavetto eh chi per me deve coprire dov'è 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 mi ricordo siamo 3 su 5 comunque sì ho paura sinceramente già c'è questo qui e ce n'è uno lo sapevo lo sapevo raga lo sapevo l'ho aspettato appunto no morta no ragazzi ti stanno pazzo e se va corre ma non ce la fa eh non ce la fa proprio ahhh non mi urla oh merda ovviamente sei con l'unico no oh mio dio venga che non ci una allora saliamo un po' eh sì hai aspettato vabbè 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 c'è bisogno attento eh sì qui sotto non siamo andati no non abbiamo trovato ancora nulla qui sotto quindi per forza ci deve essere qualcosa secondo me e di fatti l'ho trovato vabbè se va pigliala vai no pigliala io sto secondo l'altro ma mamma non lo sapevo io sto ritando pazzo vedo sto carando sotto oh mio dio non ho capito mamma c'è un tizio da me mi serve una mano e c'ho la candentina in mano arrivo 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 aiuto devo mettere la la candentina lì dentro eh io la sto seguendo l'ultima ci manca l'ultima oh di qua raga per forza eh difatti è l'unico posto probabilmente ci stiamo proprio andando adesso andiamo no ragazzi di qua secondo me non è la strata giusta per trovare la candentina e chi ce l'ha trovata secondo me eh tutto candentina trovata candentina trovata mi dovete dare una mano però mi dovete dare una mano eh io sto scappando vai fanno sto roba delle cose aiuto vai salvo grazie no salvo corri eh ci sto provando eh fammi l'ottima vai venita dal cibosti affamati dai aspettiamo anche se va dai dai aspettate vai Nick si scaccia ragazzi buon appetito a tutti oh mio dio buon appetito a tutti oh mio dio ci ci ah ah gli oppi vai 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 venisi c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente come è ovviamente sei com'è che fa ci ha fatto esci da qui fuggiamo via mamma mia ti verai così dove 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 ti è ma va di qua di cosa oh io ho messo la l'adrenalina eh 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 no ragazzi tre secondi non c'era tre secondi fa non c'era questa pizza la pizza ragazzi anche questo quarto episodio si può anche concludere qua chi da salvo oh mio dio non c'era è tutto ciao ciao bella ragazzi ciao ciao ciao